Adesso cambiamo argomento e vediamo questo sonoro. C'è una cosa che mi è sempre piaciuta molto di più che scrivere. Cosa? Il lancio del disco. Il corpo è stato trovato lì. Un giardino nella Valle dei Tempi. Potrebbe essere una messa in scena. Non scrivere niente fino a che non mi è tutto chiaro. Quindi praticamente non scriverò mai. Saverio, c'è Teodoro. Ah, Teodoro. Saverio. Non fa che parlavi di Teodoro, il suo capo. Saverio, tu sei geloso. Casa e il cuore canta per te. Beh, allora, buongiorno a nostro Paolo Sommaruga. Ciao, che piacere vederti. Buongiorno, Monica. Anche da lontano, ma sei in compagnia della splendida attrice che abbiamo visto nel promo di Macari. Esther Pantano, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Insomma, alla fine, nel successo delle serie su Rai 1, Macari, una di quelle più amate dal pubblico, Esther Pantano, insomma, è il grande protagonista. Le avventure di Claudio Gioè, insomma, uno scrittore per vocazione, detective per caso, nella Sicilia magnifica, insomma, che ci ricorda la Magna Grecia, i fasti e anche le contraddizioni, però, i drammi di oggi, aiutato da Esther Pantano e dal suo amico Piccionello. Una bellissima serie e anche, insomma, un ruolo molto moderno per te, Esther, no? Perché alla fine, insomma, una donna che, insomma, tra la carriera, tra la realizzazione professionale e l'amore fa delle scelte particolari, no? Che ruolo è? Beh, è un ruolo di una ragazza che vediamo nella prima stagione che, appunto, sta per terminare gli studi di architettura e adesso la ritroviamo, invece, nella seconda in cui deve, appunto, rientrare, rivalutare quello che è il territorio siciliano, scommettere di nuovo sui giovani, quindi creare questa città del sole insieme al suo capo Teodoro, che sarà Andrea Bosca e, grazie a questo sforzo, a questo amore per la sua terra, per il suo lavoro, per il suo uomo, cercare di conciliare tutto all'interno di uno spazio e di un panorama meraviglioso che è, appunto, la Sicilia. E qui, insomma, il triangolo, Marco, non è lei, lui e l'altro, è lei, lui e, insomma, la carriera d'architetto e la carriera protezionale. Insomma, è anche un po' moderna, è anche un po' contro gli stereotipi, il tuo ruolo. Sì, sì, assolutamente contro gli stereotipi, assolutamente molto vicina a me e è assolutamente quello che spero, insomma, che in un certo senso si riesca a fare, cioè non rinunciare per forza al proprio sogno e alla propria ambizione per il... non per l'amore basta, però amare se stessi quanto si ama il rapporto che si vuole portare avanti, quindi non dover rinunciare all'uno, cioè scegliere l'amore proprio totale. Insomma, Monica, poi, essere veramente Marco, cioè non dover rinunciare fa tutto, appena finito di girare i diaboliche con i fratelli Manetti, gestisce un cinema a Catania. Il cinema King a Catania. Gestisce un cinema? Sì, sì. Insomma, la vera resistenza culturale e cinematografica, insomma, perché questa scelta? Beh, questa scelta, diciamo, che cade su di me perché mamma e altri soci avevano proprio un cinema di proprietà che nei tempi era il cinema Ariston, poi decidono di gestire quest'altro cinema, che è un cinema storico, il cinema Mironi, e poi cambiare il nome in Cinema King. Cosa state programmando adesso? Adesso, stasera, c'è uno sferato di Murnau. I classici del cinema, quelli veri, praticamente. Sì, e poi abbiamo anche Piccolo Corpo di Laura Samani, il quale ho ottenuto proprio io che fosse in programmazione. Una bellissima scommessa. Quelle piccole realtà, appunto, in cui ancora si ritrovano le persone anche per avere una conversazione dopo il film. Non è semplicemente un consumo di qualcosa che è iper-sponsorizzato. Vado a vedere che tutto si tiene, praticamente, il cinema, la televisione, davvero. E poi c'è questo contesto siciliano, il contesto della Sicilia, no? Sì, sì, assolutamente. Che fa un po' da sfondo a tutto, sia alla tua vita professionale che a quella professionale. Ma non solo, poi veramente tra i tanti talenti, insomma, uno che a noi piace molto è quello del canto. Cioè, voglio dire, tu hai detto, questo per me sarà l'anno del canto, perché? A noi ci piace tanto Sanremo, e vedo Monica l'abbiamo portata. Monica, già, esatto. Tu l'hai visto Sanremo? Sì, l'ho visto, è stato bello riuscire a mettere sul palco, senza nessun tipo di dislivello anche, più generazioni, e quindi riuscire a portare sul palco più generazioni, riuscire a portare davanti alla televisione, quindi allo schermo più generazioni, perché credo che fra i ricordi, fra quello che sarà il futuro, e quindi le nuove promesse che sono state mostrate sui palco, sui palco e su, insomma, durante le serate abbiamo avuto un escurso slunghissimo, forse un po' di storia proprio della musica italiana e del futuro. Sì, è vero. La volta che venne a trovarci qui, Monica, vi ricorderete, forse lei ci cantò una versione meravigliosa di At Last, di Etta James, allora io ho chiesto, prima Esther, ma te la senti di dedicarci, che ha una voce bellissima, insomma. Allora vogliamo dedicare a Monica, in attesa che torni presto. Che cosa ti era piaciuto veramente a Sanremo? Vabbè, io ho amato Matteo Romano e Malika Yen nella cover, anche perché è una delle mie canzoni preferite, Your Song, quindi l'ho fatto questo tributo. Dedichiamola a Monica, dai. Sì, dai. Ma che brava, complimenti. Si è emozionato persino Marco. Insomma, Macari è questo e tanto altro, davvero una gran serie, insomma, Esther è protagonista, lo vedete, insomma, è una delle più bravi che ci siano in giro. Bravissima, complimenti, davvero. Paolo, abbiamo concluso, andiamo alla linea al TG1. Va bene, allora guardate Macari lunedì sera, la terza puntata. Grazie. TG1. Ciao Esther, grazie. Ciao.